Un nuovo piano di assetto idrogeologico per contrastare frani e alluvioni nell'area centrale della regione Campania. Un'adozione in via preliminare che interesserà un'area di 2250 km2 che include 187 comuni delle 5 province campane e che riveste una grande complessità per chi abbraccia zone esposte a criticità sismiche e vulcaniche. Rientrano infatti nel territorio dell'autorità di Bacino Campania Centrale anche Sarno, l'area dei Regi Lagni, i torrenti vesuviani e il sistema insulare. Il livello di rischio per gli insediamenti antropici e le principali infrastrutture ha commentato l'assessore regionale Edoardo Cosenza è rimasto inalterato. I territori maggiormente esposti restano quelli intorno al Sarno, il versante nord-ovest del Vesuvio in corrispondenza dei crinali vulcanici e l'area della Solofrana. Agronocerino e area vesuviana restano le aree dunque più pericolose e per questo beneficiari di tante attenzioni. Il lavoro concluso da Cosenza era stato iniziato dal commissario Pasquale Marrazzo che ha svolto una delicata opera di integrazione dei piani delle vecchie autorità di Bacino nel nuovo strumento di programmazione. Il piano è avanzatissimo anche dal punto di vista tecnico poiché adotta la scala di dettaglio 1 a 5 mila e rispetta le direttive alluvioni. Il piano appena adottato dal comitato istituzionale in via provvisoria sarà ora sottoposto alla conferenza programmatica alla quale partecipano tutti gli enti territoriali, comuni e province in primis coinvolti nel processo.